Un saluto alla nozione catalana, noi indipendentisti sardi siamo qui in questa piazza perché pensiamo che l'indipendentismo non abbia confini, l'indipendentismo è come la libertà, è la libertà, è la libertà che stiamo chiedendo per i nostri popoli, per il popolo catalano, sard, basco e andremo avanti finché questa libertà non arriverà, il 20 settembre saremo anche in Scozia per portare anche lì il saluto degli indipendentisti sardi perché sappiamo che se si vince in Scozia, se si vince in Catalogna si vincerà anche in Sardegna, siamo legati alla stessa catena, siamo anelli della stessa catena, di quella catena che oggi si snoderà per le strade di Barcellona, siamo anelli noi sardi come anelli saranno i baschi, come anelli saranno i catalani, gli scozzesi, siamo anelli che deve circondare l'Europa e chiedere che si prenda le sue responsabilità perché i nostri popoli, le nostre nazioni non possono più rimanere legate, vogliamo liberarci perché vogliamo vivere in Europa e nel mondo da sardi, da catalani, da scozzesi, da uomini liberi perché pensiamo che la nostra libertà sia un valore anche per l'Europa, noi torneremo ogni anno alle FOSAR per ricordare Giadiada Catalana come noi abbiamo Giadiade e Sardegna ma verrà il giorno che torneremo per celebrare la nascita dello Stato catalano, quella sarà la nostra alba, allora grideremo con forza, allora riempiremo i nostri cuori di quella libertà che abbiamo sempre sperato.